1863 nasce pietro mascagni 1979 le brigate rosse uccidono il maresciallo romichi 2000 nizza sottoscritta la carta dei diritti fondamentali dell'unione europea commenta il fatto del giorno roberto papetti direttore del gazzettino oggi parliamo di per arbor un attacco che segnò una svolta nel secondo conflitto mondiale 7 dicembre 1921 a milano viene inaugurata l'università cattolica del sacro cuore a volerla è padre agostino gemelli che nell'aprile 1919 ha costituito l'istituto di studi superiori giuseppe torniolo l'ateneo cattolico otterrà nel 1924 il riconoscimento di università libera acquisendo così il diritto di conferire titoli accademici aventi valore legale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti